I danni causati dai cinghiali sono ormai troppi e le soluzioni trovate finora non sono state efficaci. Da Sansa è arrivata la proposta del sindaco Vittorio Esposito di liberalizzare la caccia agli ungulati, una soluzione drastica ma ritiene il primo cittadino a questo punto necessaria, quindi un appello accorato a tutti i primi cittadini della zona a fare fronte comune per debellare il problema. Penso che questo problema ormai è sentito da tutti i cittadini del Vallo di Riano e del Cilento. I contadini e i cittadini sono esasperati perché ormai gli ungulati arrivano davanti alle abitazioni mangiando di tutto e distruggendo tutti. Ritengo che questo mio grido di dolore, diciamo così, viene soprattutto dalla conoscenza del territorio ma viene soprattutto dalle lamentere che ogni giorno un sindaco raccoglie sul proprio territorio. faccio mia questa proposta ma la faccio soprattutto a tutti i sindaci del Vallo di Riano e del Cilento a mobilitarci insieme per far sì che di porre fine definitivamente a questo problema. Le azioni che metteremo in gamma saranno dure e saranno anche di un eco nazionale perché riteniamo che non è più il tempo di aspettare, di chiacchierare e di fare studi su questo problema ma è tempo di agire e agire insieme ai cittadini anche ad andare a Roma tutti quanti per protestare contro questo fenomeno. Non vogliamo dare colpa a nessuno, non vogliamo dire che ci sono dei responsabili, riteniamo che il Presidente del Parco sia sensibilissimo a questa problematica però da solo un grido che ce la possa fare. Quindi si parte da Sanza per far sì che questo problema, questo fenomeno venga definitivamente risolto per dar pace a tanti cittadini che vogliono risidualmente coltivare in pace perché si parla tanto di eccellenze, di prodotti tipici ma quali prodotti? Qua non si riesce a fare nemmeno un pomodoro più, nemmeno una melanzana. Questo è quello che si dice e ci dicono i cittadini ma non si riesce nemmeno più a vendemmiare. Io ieri ascoltavo dei cittadini che dicevano le loro vigne sono state distrutte dai cinghiali. Quindi è ora di svegliarsi senza sì e senza ma. Chiudiamo le porte definitivamente ai cinghiali con un abbattimento selettivo se è il caso, aprendo la caccia tutto l'anno fino a che non si riequilibra questo fenomeno perché non è possibile che noi dobbiamo essere sopraffatti da una fauna che ormai è irregolare sul nostro territorio. Riteniamo che non sia un fenomeno come lo è del nostro territorio ma è di tutta Italia. Quindi se c'è bisogno anche di una legge ad hoc del governo per far sì di porre fine, voglio rimarcare questa cosa, porre fine alla problematica cinghiale.